Fare luce sull'autismo promuovendo la ricerca e il miglioramento dei servizi e contrastando la discriminazione e l'isolamento di cui ancora sono vittime le persone autistiche e i loro familiari. Appuntamento sabato scorso al Teatro Comunale Eschilo di Gela nell'ambito della giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. Presenti numerosi giovani. Tantissima gente, tantissimi genitori, dirigenti scolastici che hanno fatto il loro intervento ed è partito questo dibattito interessante che ci aspettavamo. Quindi questa partecipazione numerosa che speravamo con questa presenza massiccia qui al teatro. Quindi non soltanto una sensibilizzazione con le mani dipinte di blu che c'è stato in questi giorni ma anche con una riflessione attenta e seria. Parliamo di tanti bambini che hanno dei comportamenti che possono sembrare bizzarri ma allo stesso tempo hanno delle difficoltà nella comunicazione e quindi hanno un modo loro per comunicare il loro mondo speciale. Se c'è un aspetto che accomuna un po' tutti i soggetti autistici è proprio la poca socievolezza, questo sicuramente. Poi sono diversissimi tra di loro, estremamente diversi, da abilissimi a non parlanti, autolesionisti. Però la difficoltà maggiore è proprio che non hanno interesse nei confronti degli altri per cui si deve trovare il modo per fare breccia. L'assessore comunale ai servizi sociali, Licia Abela. L'idea progettuale è quella di allargare, di estendere la possibilità di poter parlare di Blue Day ogni singolo giorno. Quindi cercare di capire subito lì dove si rappresentino delle problematiche inerenti all'autismo e di accompagnare, ipoteticamente, speriamo presto, questi ragazzi nel loro percorso fino al raggiungimento dell'autonomia totale. Questo credo sia l'auspicio migliore che possiamo dare. Anche il commissariato di polizia di Gela si è tinto di Blue per manifestare un segno di consapevolezza nei confronti della sindrome che è cresciuta di dieci volte negli ultimi quarant'anni. Questa manifestazione nazionale ci ha molto sensibilizzati sull'argomento perché crediamo tantissimo in questo progetto e soprattutto nell'attività di ricerca investita in quest'ambito. E quindi attraverso questo segnale così semplice ma nello stesso tempo importante abbiamo voluto manifestare solidarietà all'evento. Un commissariato che si veste di blu? Sì, un commissariato che si veste anche di blu.